Ecco, siamo alla fine della passeggiata di Nervi, la passeggiata Anita Garibaldi, che parte dalla stazione di Nervi e arriva fino qua al borgo di Capolungo. Ecco, come vedete il mare qua, il mare di Genova è veramente bello, un mare limpido, trasparente. Siamo nel Golfo Paradiso, ecco, da qua inizia il Golfo Paradiso, il nome dice tutto, perché il Golfo Paradiso arriva fino al promontorio di Portofino, che adesso è laggiù, lo vedrete alla nostra sinistra. Siamo in una giornata di settembre meravigliosa, la temperatura è ideale, perché siamo intorno ai 29 gradi. A sinistra una bellissima villa e sotto la spiaggia pubblica di Capolungo, che si accede dalla strada dall'Aurelia che arriva fino qua. Ecco, al termine della passeggiata Anita Garibaldi diventa una cresa, una classica cresa genovese, che scendendo giù si possono vedere questi scorci meravigliosi, che sono particolari della nostra città. Ecco, qua sotto la spiaggia di Capolungo. Ora scendiamo giù dove ci sono posteggiate le barche che portano poi, ovviamente, una volta i pescatori, adesso i diportisti. Alla nostra destra un'antica trattoria e salendo riprendiamo la croesa che porta verso Bogliasco.